ciao a tutti dallo spolab dal vecchio spolab perché chi ha visto un po di mesi fa uno dei miei ultimi video in cui ho realizzato qualcosa ho detto le cose stanno per cambiare ho dovuto smontare lo spolab la vita è fatta di imprevisti bisogna sempre comunque sia essere pronti ed ecco questo è quello che rimane anzi rimarrà ancora un pochino di meno perché devo togliere per esempio la ventola lassù è un po di viti in giro è un po di prese qualche cosa e soprattutto lassù c'è il trasmettitore a scintilla che l'ho posizionato qua e quello lo devo smontare e quindi il volmetro sotto questo qui e qui i disegni di mio figlio e andranno nell'altro laboratorio che sarebbe stato quello mio originario prima di prendere la casa qua era un vecchio progetto abbandonato l'immobile non è rimasto un magazzino 50 anni quadrati in chiaro nel tempo c'è qualche mio vietro girato lì e quello diventerà il mio nuovo spolab definitivamente anche se non si trova a Viterbo ma si trova a Pasanello e quindi una volta a settimana mi trasferirò però piuttosto che comprarmi una a Viterbo visto che un immobile già ce l'ho e purtroppo il mercato immobiliare è quello che è e niente praticamente dovrò ricostruirlo lì ci vorrà del tempo quindi i video oramai avete visto c'è tanta tanta roba che riguarda l'arte anche mia molto di tutto anche le mie esposizioni quindi niente adesso vediamo un po il futuro e i lavori di elettronico li farò a casa direttamente che sono già attrezzato ho già un attrezzatura nuova grazie alla solita Parker Site un saluto breve grazie di essere 2400 follower grazie grazie a voi e ci vediamo alla prossima ciao ciao